Buongiorno, come state? Tutto bene? Rieccoci qua con un nuovo video. Allora, oggi è martedì mattina, io sono qua a casa e adesso devo mettermi un po' a pulire, a fare un po' di faccende perché non devo assolutamente approfittare che è il mio giorno libero e che sono a casa senza bimbi questa mattina. Ma ci teniamo a fare questa introduzione perché in questi giorni ho girato un video molto particolare nel quale vi faccio una sorta di what I eat in a day con dei piatti super super gustosi e particolari che mi sono arrivati da Umami che ha come missione quella di rendere i cibi più sani e buoni, gustosi allo stesso tempo, più accessibili a tutti, anche per chi magari ha poco tempo. sapete che io con la gravidanza, poi con l'allattamento ho un po'... Sì, perdonate le mie unghie, devo assolutamente andare a rifarle. Con la gravidanza, poi con l'allattamento e il passare del tempo la mia alimentazione è andata un po' a ramengo, quella che era la mia alimentazione sana, sapete, come ero molto prima, anche durante la gravidanza, la gravidanza sono riuscita a seguire abbastanza bene. Poi ovviamente gli impegni con due bimbi sono modificati, sono triplicati e quindi non sempre ho il tempo di preparare e fare tutto alla perfezione, in modo sano, eccetera, eccetera. Anche se questo è un po' il mio, diciamo, impegno personale che mi sono data di ricominciare a mangiare un po' più sano per tornare un po' in forma e soprattutto per mangiare appunto più sano e Umami appunto offre questa possibilità di avere dei piatti già pronti da tenere a casa per quando effettivamente non si ha tempo. A volte arriviamo a casa tardi la sera, ci ritroviamo a mangiare schippezze perché abbiamo poco tempo e in realtà Umami ci dice che no, si può fare, loro ci danno questa possibilità. Mangiare sano, mangiare bene non è complicato. Danno una bassa scelta di cibi vegetali e noi abbiamo fatto una prova. Per una settimana abbiamo preso una box, abbiamo preso, abbiamo scelto dei piatti e qui nel video vi mostrerò alcuni di questi piatti che abbiamo preparato e velocissima appunto la cosa bella è che sono piatti pronti, preparati da chef selezionati con materie prime di prima scelta e insomma adesso vi farò vedere un po' di piattini, un po' di ricettine super super deliziose, velocissime perché effettivamente sono già pronte e non perché sono pronte non sono sane, anzi la missione è proprio questa pronto ma molto molto sano, equilibrato e super super buoni cioè sembrava di mangiare al ristorante ad ogni pasto e adesso vi lascio qua i video. Come vedete mi è arrivato questo momento in cui ho aperto la scatola insieme a voi la dita si appoggia a corrieri tradizionali e non refrigerati questo perché consegnano in delle box isolate dove utilizzano la paglia al posto del polistirolo e che contengono ghiaccio secco questo consente di mantenere la catena del freddo per 48 ore dal momento della spedizione quando la box arriva a casa non c'è bisogno di correre a mettere i piatti in freezer si può tranquillamente aspettare i piatti hanno una scadenza di circa 6 mesi una volta messi in freezer questo è il mio primo piatto che ho provato e si tratta di fagioli rossi con verza e patate buonissimo, me lo sono preparato in un pranzo che appunto ero da sola e ci sono vari tipi di cottura che si possono scegliere il microonde è consigliato, io non ce l'ho però il microonde è consigliato perché è più veloce, non si rischia di riscaldare eccessivamente il piatto andando a perdere i nutrienti per rigenerare il piatto senza microonde si può lasciare scongelare per qualche ora il piatto in frigorifero tolto dalla busta, dalla confezione insomma riposto in un piatto o in un contenitore e poi riscaldato al momento del consumo in forno, forno statico massimo 140 gradi da prodotto decongelato circa 10 minuti oppure in padella antiaderente con coperchio a fiamma medio-bassa è possibile farlo anche da prodotto congelato si impiegherà un po' più tempo ecco l'unica cosa che ovviamente ogni tanto va mescolato e girato per uniformare bene il calore buonissimo, si sente proprio il gusto della verza, dei fagioli proviamo una patata buonissimo questi invece sono i fagioli neri piccanti con verdure e cialdi di mais buonissimi adesso vi faccio vedere qualche piatto già pronto abbiamo il curry di lenticchie nere con riso nero integrale la farinata di lenticchie rosse all'erbe spontanee la lasagnetta ai carciofi e fave si può scegliere di acquistare con o senza membership quest'ultima però offre un risparmio significativo con uno sconto circa del 20% sul menù per un intero anno al costo di soli 99 euro annuali e al primo acquisto con la membership si avranno accesso a tre settimane di prova gratuita durante le quali si potranno beneficiare dello sconto si potrà beneficiare dello sconto e decidere successivamente se continuare con la membership o meno se vuoi provare umami ti basterà andare nel loro sito in questo link che vi lascio qua in descrizione per ricevere 50 euro di sconto e scegliere le tue ricette che preferisci e ricevere a casa la box se decidi di acquistare con la membership potrai risparmiare ancora di più pagando 20% in meno per un anno intero allora queste sono crepe di riso nero e fave con spinaci e crema di anacardi io non so se sono gli anacardi ma la crepe di riso nero rimane bella croccantina buona e poi gli spinaci si sente proprio il gusto buono di spinaci ma sembra che siano spinaci col parmigiano non c'è il parmigiano sono troppo 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 gustosi buonissimo ve ne mangerei 8 anche io ti piacciono? si buono? si allora rieccomi io sono qua in macchina devo fare un salto al cario fuori ma volevo farvi vedere l'altro ieri c'è stata la recita di Lorenzo e non ho fatto introduzione perché è stata una giornata super super di corsa ho dovuto prenderlo a scuola e riportarlo dopo poi all'ora della recita c'era anche mia azienda ma è stata una giornata bella intensa e quindi non ho registrato il pre recita però sono riuscita a fare qualche video era pieno di gente però sono riuscita a stare abbastanza nei posti davanti infatti sono riuscita a fare un po' di video e questa è stata la prima recita ufficiale di Lorenzino perché va bene ha fatto una a Natale però lui era totalmente disperato cioè nel senso quella era la primissima recita effettivamente perché al nido non è che ne ha fatte questo è il suo primo anno di scuola dell'infanzia e hanno fatto sempre festicciole al nido sì ma mai una recita vera e propria a Natale era totalmente spaesato ha pianto aveva fatto l'angioletto erano tutti i vestiti d'angioletto lui era senza agli perché non se ne voleva far mettere insomma è stato un po' così perché sì non sapeva cosa stesse capitando ha visto tutta la platea lui sul palco non sapeva poi quando mi ha visto mi ha ritrovato in mezzo alla folla si era un po' calmato infatti era riuscita a fare anche le ultime canzoncine però questa è proprio la prima festa di fine anno che fa la prima recita di fine anno infatti hanno fatto poi la canzoncina hanno fatto tutto il percorso in inglese hanno fatto la canzoncina in inglese hanno fatto la filastrocca per mamma e papà insomma e sono riuscita a fare un po' di vlog un po' di video e ve lo lascio qua sei pronto per fare la recita? la mia mamma è mio papà ecco 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 Do I fish? 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 No, I don't. I don't like fish. Do I guess? Milk? Milk? Yes, I do. What if I do? Do I red? 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 No, I don't. I don't like red. Do I guess? Milk? Yes, I do. What if I do? Do I fish? My favorite food is tomatoes and crabs. Do you like tomatoes, tomatoes, tomatoes? No, I don't. I don't like tomatoes. Do you like chicken, chicken, chicken? Yes, I do. What if I do? Food, food is tomatoes and crabs. Food, food, food. Food, food, food. Wow, un regalino. Sei stato bravissimo a cantare l'inglese E per me? Grazie Grazie amore mio Posso darti un bacino? C'è anche un aletto C'è? Cosa? Un braccialetto Un braccialetto? C'è un braccialetto dentro? Ma è tuo E' mio, posso aprirlo? Sì Grazie Ma è il mio braccio Ah lo vuoi mettere nel tuo braccio? Ma che bello Vediamo qua Sei stato bravissimo tu Vediamo Wow ma che bella Ma è meravigliosa Apriamo qua? Sì Lo apri tu? Lo apro io? Sì Un bacino Sì 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 Amore mio Ah alla fine Alla fine Ti ha fatto cambiare le scarpe E il braccialetto è tuo Alla fine hai voluto mettere le scarpe di Batman Adesso dobbiamo andare a mettere le tue però Quelle nere Ti piace sempre la passione di Batman Ti piace sempre Batman? Eh? Ti piace sempre Batman? Eh? Ti piace le tue cacchiavi ma hai visto come sono fatti? Guarda Guarda Uno è rotondo e l'altro qua l'altro Hai visto che sono diversi? Sì 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 Non so Ma vabbè Dov'è? È tenere su un altro Ah 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 Benvenuti al parco Finalmente a Torino C'è una bella giornata Dopo due settimane Bravo Dopo due settimane di pioggia Ce l'abbiamo fatta Vai Ruota Oh madonna Si è fatto male Non la faccio più Tutto ok? Chi è che hai nella maglietta? Lory Come si chiama? Spiderman 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 Ancora Ancora? Un più veloce Più veloce? 3, 2, 1 Via Un po' da Via Ciao Eccomi Non guardate al mio retro Abbiamo appena accenato E devo ancora sistemare tutto Ma Dovete sapere che io Quando ero piccolina Ho anche un tatuaggio Dei miei nipotini Io Sono pazza dei miei nipoti Io sono pazza dei miei nipoti Di Leo e di Sisto E ho fatto anche il tatuaggio Con le loro lettere Le iniziali E io Vedendo Leo Ho sempre detto Io voglio Quando ho un figlio Lo voglio uguale a Leo E Cioè Lo amo così tanto Che vorrei un figlio come Leo No? Io Un po' L'ho visto Non che l'ho cresciuto Però L'ho visto crescere No? Le mie prime esperienze Di maternità Le ho avuto con Leo Ho imparato con lui A cambiare il pannolino Ho imparato con lui A dare le pappe Insomma Queste piccole cose Vabbè Ve la faccio molto breve Si assomigliano in tutto per tutto Ci sono due matematici Sono due Si assomigliano in tante cose Adesso ormai Leo è grande Un adulto Ma quando abitavo in Brasile Lo portavo io a scuola E E magari mi diceva la mattina stessa Zia Mi sono dimenticato Devo fare questo compito Zia Devo andare all'internet point A stampare della roba La mattina Per riportarlo a scuola Edoardo La sera prima della recita Mi dice che questa tavolozza Che io gli ho comprato Gli ne ho già comprate due E le ha perse tutte due a scuola L'andava colorata Sono le dieci di sera Gli ho detto Fallo tu come attività No mamma Fallo tu che lo fai meglio Infatti lui adesso ha fatto il disegno Doveva fare anche un disegno Ha fatto il disegno E è crollato Adesso si è addormentato Adesso io sono qua A fare la tavolozza Adesso devo capire Come colorare Questa bellissima tavolozza Lo facciamo insieme Invece era una roba Molto più semplice da fare Però io me la sono ingegnata così C'è della colla a caldo Qua attaccata La colla a caldo Che in realtà È finita Quindi io ci ho messo Uno stecco gigante Dentro In modo da schiacciare Tutto il rimasuglio L'ho attaccato ovviamente Alla presa E qualcosina È uscito fuori Sono riuscita a malapena Ad attaccare Questi foglietti qua Perché ho provato A andare direttamente Con le tempere Ma non Non rimane Quindi Adesso ho fatto così Solo che Quindi ho dovuto mettere Un bel po' Perché se no Non si vede Questo è il meglio Che posso fare Alle dieci di sera Spero che possa andare bene Sono curiosa Di vedere le opere d'arte Delle altre mamme Però per essere le dieci di sera Dai dire che Che va bene Dai vediamo Quei risultato finale Allora Questo è il risultato finale Vi ho attaccato anche Il nome sopra Perché così Almeno se le riconoscono Asciugherà Non lo so Glielo ho dovuto mettere tanto Perché se no Non si vedeva niente E Questi erano Gli unici colori Disponibili Quindi questo Me lo sono un po' Inventato E ho unito Due colori Però Questo devo dire che È carino Da vedere È carino Però Bisogna vedere se Rimarranno attaccati Me lo auguro Se no Verrà un pasticcio Prossimamente Vi aggiornerò Sulla riuscita O meno del lavoro Allora Dieci e mezza di sera Ce l'ho fatta Ho finito Ai ai Queste avventure Però Vabbè No Ve l'ho saputo prima Magari Effettivamente Lo facciamo un po' Meglio Vabbè Me la sono cavata Alla fine Speriamo che dura Speriamo che dura E durerà fino alle 3-4 del pomeriggio Di domani Vediamo Niente Concordo qua il vlog Spero che vi abbia fatto piacere E vi ricordo come sempre Che se vi fa piacere Potete seguire anche su Instagram Sono AnnaGlore91 Se questo vi è piaciuto Metti un mi piace Se ancora non l'hai fatto Ti invito a iscriverti qua nel canale E attivare la campanella Per non perdere i prossimi vlog Vi mando un grandissimo bacione E noi ci vediamo al prossimo video Ciao ciao Ciao